Amici miei bentornati, oggi si torna a parlare di gadget, uno specifico di figate tecniche, ho 7 e sono super soddisfatto di questa selezione perché ci sono dei produttini un po' diversi dal solito e che effettivamente tendono a differenziarsi un po' da tutti gli altri perché hanno delle chicchettine particolari che mi portano a dire effettivamente oh sono proprio fighe ma procediamo con ordine partendo dal primo prodotto che arriva da Soundpeats un paio di cuffie in questo caso che vengono ad essere definiti, almeno da quello che ho letto pure su Amazon eccetera eccetera nei momenti in cui poi sono andato un po' ad informarmi, cuffie a conduzione aerea cosa significa? Detto in parole veramente super povere, non sono delle cuffie che hanno un gommino quindi non sono cuffie in ear, non sono cuffie come le Airpods che si appoggiano nell'orecchio ma si appoggiano diciamo e senza diciamo invadere troppo in un certo senso come vedete la forma dovrebbe dirvi un pochettino tutto, l'audio esce da questi quattro diciamo speaker che in un certo senso vi avvolgono se possiamo dire o comunque questa è la sensazione che ho provato una volta indossate vi dico subito che in una fase iniziale di approccio con queste cuffie, con questo diciamo prodotto non ero proprio convintissimo, mi hanno fatto un po' storcere il naso non so, ho detto vabbè sarà una cavolata e invece a lungo andare le utilizzo ormai da una settimana e ancora non le ho caricate quindi ottimo anche per quanto riguarda la batteria ma comunque per quanto riguarda proprio l'inizio approccio in generale è stato poi positivo proprio perché l'audio non è affatto male non aspettatevi un audio ricco di bassi perché quelle secondo me le trovate al meglio poi con le Inear eccetera eccetera però è un audio che vi avvolge e per quello che è poi il loro utilizzo per come sono state pensate sono ottime e questo perché sono delle cuffie che non vi isolano quindi non vi mettono, non hanno la soppressione attiva dei rumori ma soprattutto sono delle cuffie pensate per lo sport e se pensiamo a questo sono perfette in un certo senso perché non vi isolano, sono comode, leggerissime una volta messe non vi cadono sia grazie appunto all'aggancio che hanno poi dell'orecchio vi faccio vedere subito come si mettono vi faccio vedere proprio per due secondi e una volta inserite non cadono tipo mai proprio perché hanno questo archetto qui dietro e poi si appoggiano proprio sull'orecchio l'ho detto 100 volte appoggio ma ci siamo capiti qui sono ottimi, mi sono piaciuto e mi è piaciuto anche il controller abbiamo dei tasti funzione, volume su, volume giù, play off da questa parte, diciamo nella parte destra poi della cuffia e le approvo, mi sono piaciute tanto anche per quanto riguarda la tenza non ci sono problemi e devo dire che sono utili anche in casa proprio perché non vi isolano e quindi se dall'altra parte vi chiamano voi sentite non è una cosa da sottovalutare soprattutto se come voi siete ancora con i vostri eccetera eccetera detto questo andiamo avanti rimanendo sempre o comunque diciamo torniamo a parlare di musica e di cuffie con Urbanista queste sono le Urbanista Foenix che vi dico subito tra tutte quelle che ho provate proprio tutte dalla prima all'ultima queste sono le mie preferite di tutto il catalogo mi sono piaciute un sacco e sono ufficialmente nella mia top 3 o comunque nel mio kit sono entrate proprio nel mio kit a fianco appunto alle Airpods e alle Nothing ma perché mi sono piaciute così tanto? beh, uno per il design oh ragazzi sono proprio belle lo sapete le cose a me belle piacciono ancora di più e queste secondo me sono molto carine esteticamente mi piace tantissimo questa colorazione un po' diversa dalle altre mi piace tanto questa cosa cura dei dettagli veramente ottimi abbiamo poi ovviamente sì la possibilità di caricarlo con il pannellino solare ma anche la Type-C nella parte sotto e devo dire che anche le cuffie poi sono in-ear ovviamente ma sono anche queste ultime molto carine materiali ottimi plastici ma o comunque plastiche in generale ma veramente di ottima fattura sono molto piacevoli al tatto e sono anche poco invadenti in un certo senso come un po' tutte le altre cuffie siamo un po' in linea sotto questo punto di vista come vedete non sono male anzi e devo dire che la colorazione poi aiuta in un certo senso mi piacciono molto lato indossabilità hanno la soppressione attiva dei rumori hanno la possibilità di diciamo darvi un in generale un feedback ambientale quindi hanno la trasparenza la modalità trasparente la modalità standard che potete gestire dall'applicazione che a breve andiamo ad analizzare e in generale sono delle ottime cuffie anche per quanto riguarda il microfono che non funziona proprio male e comunque vi permette di fare delle chiamate senza alcun problema detto che mi sono piaciuto esteticamente detto un po' di caratteristiche generali vi dico che il pannellino qui solare funziona però non l'ho potuto provare sono sincero con voi al 100% non ho visto proprio la vera potenza di quest'ultimo perché non c'è stato tanto sole però nei momenti in cui l'ho provato ho visto che effettivamente funziona quindi ha senso potrebbe avere senso ma soprattutto secondo me ha senso in estate oppure se siete per esempio al bar le state utilizzando le lasciate sul tavolino del bar e nel mente si ricaricano un pochettino secondo me hanno più utilizzi e per essere un paio di cuffie pronte per la portatilità e per non o comunque per essere appunto utili sempre per chiamate musica eccetera eccetera in giro hanno tanto senso mi sono piaciute in generale ma mi sono piaciute anche proprio per l'audio che potete tra l'altro gestire come vi ho detto tramite l'applicazione applicazioni che una volta entrati ovviamente fatta la gestione indossate e collegate quindi al telefono mi permettono di gestire appunto le varie modalità quindi standard cancellazione attiva dei rumori e trasparenza mi permettono di avere un look generale uno sguardo generale alla batteria anche nel momento in cui si ricarica eccetera eccetera ma soprattutto di gestire l'equalizzazione che non è da sottovalutare mi è piaciuta tanto questa cosa perché inizialmente mi hanno dato un feedback un po' non lo so ovattoso in un certo senso bene ho modificato un attimino i parametri e sono perfette per quello che è il mio utilizzo quindi le approvo e anche per quanto riguarda il prezzo secondo me ci sta dovrebbero stare sui 120 non mi ricordo però da quello che ricordo proprio in generale almeno anche dalle caratteristiche che ho scritto qui sopra ci sta per il rapporto di da prezzo anche per la caratteristica un po' unico nel suo genere mi sono piaciute quindi poco da dire come mi è piaciuto anche il nuovo proiettore che mi ha inviato BenQ il GV11 perché mi è piaciuto? beh perché è piccolo compatto funziona senza alimentazione ed è comodissimo lo sto utilizzando molto di più rispetto al GV30 di cui abbiamo già parlato anche se ci sono delle differenze ma prima di parlare di queste differenze vi dico un po' i punti a favore di quest'ultimo e poi dopo lo bastoniamo in un certo senso ma perché dico questo? beh perché è un proiettore come vi ho detto piccolo molto comodo leggero facile da trasportare anche per quanto riguarda la confezione poi che vi permette il trasporto è molto più piccolo rispetto al GV30 e soprattutto questo ultimo anche è comodo da regolare perché ha una piccola rotellina che vi permette di regolare la messa a fuoco le inclinazioni come anche la basetta anche qui abbiamo il telecomando che vi permette di gestire il tutto poi ha Android a bordo quindi non ci saranno problemi sotto questo punto di vista un po' tutte le caratteristiche che abbiamo parlato anche in maniera molto approfondita con il GV30 ma dalla sua a questo questo semplice utilizzo che mi fa impazzire anche perché come sapete io lo utilizzo sul letto in un certo senso lo aggancio un po' a questa parte in legno del letto molto leggera molto diciamo in un certo senso appoggiata poi a quello che è il tutto come state vedendo dalle clip e devo dire che avere questa facilità con questo aggancio a vise mi ha dato grossi vantaggi poi la luminosità è buona ma qui iniziano ad arrivare un po' le differenze quindi facciamoci questo confronto partiamo dal prezzo partiamo con questo qui da 399 euro mentre il GV30 vi viene a costare se possiamo dire sui 549 fatta questa differenza di prezzo vediamo poi qual è la differenza lato ciccia lato potenza la prima è la luminosità il GV30 è più luminoso quindi nel momento in cui c'è una fonte di luce già all'interno della stanza il GV30 vi dà quel feedback quella qualità effettivamente maggiore come vi dà la qualità maggiore il lato proprio risoluzione perché il GV30 ha i 720p questo si ferma a 480 che da una parte e voi direte eh ma è pochissimo vero ma nel momento in cui proiettate su un muro a patto di un 150 pollice eccetera eccetera fidatevi che questa differenza non è esagerata voglio e vorrei provare in maniera molto approfondita magari un proiettore 4k eccetera eccetera e farò di tutto per fare questo confronto però da quello che è la mia esperienza col GV30 questo qui è anche un modello prima che ho provato un bel po' di tempo fa l'esperienza figa che vi dà il proiettore è il fatto che appunto siete almeno con questi qui portatili comodi nell'utilizzo lo cancete dove volete e la qualità per quanto tecnicamente possa essere bassa non è poi un problema nell'intrattenimento nell'utilizzo nella godibilità del prodotto ed è una cosa che secondo me solo provando potete capire quindi io vi dico che per me ha senso poi magari dategli un'occhiata magari da vicino non lo so vedete un po' voi però secondo me è veramente figo c'è questa differenza e vi dico che comunque lato luminosità e qualità il gv30 è più potente quindi ovviamente potrei consigliarvi di più quello lì se volete invece un coso di molto più comodo e compatto prendetevi lui per il resto poi c'è da dire un'altra cosa molto figa o meglio che il gv30 ha uno speaker più potente molto più corposo lato audio che questo ovviamente ha ma non come il suo fratello maggiore quindi vi ripeto guardate un po' il tutto guardate un po' le caratteristiche magari vedete un po' le offerte che trovate online e vedete un po' quello che conviene di più a voi io anche se il gv30 ce l'ho utilizzo di più questo perché è più comodo io ho una stanza piccola e questo lo riesco ad agganciare spostare mettere e togliere in due secondi la batteria è ottima funziona senza alimentazione e quindi va benissimo e quando lo utilizzo ho tutto chiuso quindi è tutto scuro quindi va che è un amore andiamo avanti con due gadget di Pitaka il primo è proprio una figata tech che solo gli appassionati quelli che proprio amano i gadget vogliono avere sempre quella chicca possono comprare perché costa però è figo ragazzi è veramente figo e secondo me da avere uno zaino è quella cosa un po' da nerd che ci sta che cos'è un porta airtag che però ha nascosto un cavo usbc lightning comodo e figo punto non vi posso dire troppo perché alla fine questo è mentre l'altro è qualcosa che mi vede chiesto in un bel po' di voi il cinturino di Pitaka finalmente l'ho provato e vi dico che ha senso subito perché so che molti lo volevano comprare ma erano un po' titubanti un po' pensierosi ora vi dico invece perché secondo me ha senso partiamo dal prezzo come sempre i prodotti Pitaka ragazzi costano c'è poco da dire però in questo caso alla fine siamo vicini ad un prodotto Apple e se faccio un confronto con i prodotti Apple questo qualitativamente ci sta tantissimo anche per come è stato pensato perché dico questo uno c'è una volta aperta la scatola voi potete regolare la dimensione senza col problema grazie ai gadget che vi escono che vi fornisce proprio il brand all'interno della confezione quindi top sotto questo punto di vista lo mettete ve lo regolate al polso e state a posto due perché ho fatto tre due ha l'aggancio questo qui proprio quello che vi permette poi di inserire il cinturino all'Apple Watch regolabile modificabile in un certo senso perché all'interno appunto della confezione vi esce sia la versione da 40 mm e quella da 44 quindi in futuro cambiate Apple Watch vi prendete l'Apple Watch più grande il cinturino vi rimane vi basta prendere gli aggeggini che vi sono usciti modificare l'aggancio e il gioco è fatto e non è una cosa da sottovalutare secondo me perché vi permette proprio massima libertà e tre come caratteristica proprio l'aggancio in sé per sé perché è magnetico ma poi ha ovviamente un aggancio fisico in un certo senso o comunque se così possiamo dire che funziona bene perché il magnete ve lo porta all'interno dell'aggancio e poi l'aggancio va in automatico ad inserirsi e non cade non molla quindi anche sotto questo punto di vista soddisfatto e detto poi che anche qualitativamente ci sta vi posso solo dire se vi piace il prodotto e cercate questo prodotto o comunque un dispositivo così prendetelo anche per fare un po' un kit completo di pitaca secondo me ci sta qualitativamente è valido unica cosa se avete come me l'apple watch argento forse la possibilità di comprarlo solo in nero non ci sta tantissimo quindi valutate un po' anche i vostri gusti eccetera eccetera io lo continuo ad utilizzare però come sempre sono sincero vi dico che secondo me con un dispositivo nero ci sta molto meglio magari prendetevi una skin sapete no quelle cose che si agganciano per proteggere anche un po' il frame del dispositivo però in generale lo approvo se stavate provando ad acquistarlo e lo andate un po' insicuri prendetelo prodottino figo che mi è comunque che è arrivato da poco e che mi va ad essere un po' il fratellino maggiore se possiamo dire del supportino mio perfetto solamente da avere fantastico lo adoro proprio mai più senza per ipad o meglio un supporto per macbook sempre di banks sempre girabile a 360 gradi fa parte un po' di quella linea e vi dico che uno è realizzato benissimo alluminio bello rigido tosto bello mi piace un sacco due il braccio che poi regge il tutto che permette di fare tutte le regolazioni del caso è ancora più resistente quindi top e tra parentesi questo qui ancora non molla dopo un mese di regolazioni continue perché lo uso tanto non mi ha dato nessun problema quindi top ma comunque quello lì ancora più resistente ancora più grosso ancora più figo proprio da utilizzare anche perché deve reggere poi un peso un attimino più importante rispetto ad un macbook rispetto ad un ipad questo qui quindi ci sta e tre la piattella che io chiamo così la base d'appoggio poi del macbook è forellata quindi ci stai i gommini per non far scivolare il prodotto e poi è regolabile in un certo senso anche diciamo il punto di appoggio di sicurezza per il macbook cioè nel senso non cade ok perché appunto ha questa piccola pateletta da questa parte proprio termini tecnici solo per voi oggi ed è comoda questa cosa perché è regolabile quindi nei momenti in cui voi avete un ipad con magic keyboard e potete utilizzarlo su questa base e realizzare un setup spettacolare con 12 pollici 11 pollici chissà magari il vostro giù sta lavorando a qualcosa di particolare vedrete però molto bello mi è piaciuto veramente tanto come prodotto ed è ottimo questa cosa ed è ottimo questa cosa del poterlo girare a 360 gradi perché secondo me utilizzate gli hub USB-C agganciati sotto con lo scotch è un valore aggiunto proprio nella gestione dei cavi nel momento in cui voi non riuscite ad arrivare lo prendete lo girate e siete a posto io quello devo alzare e girare fisicamente quindi ci sta perché non lo utilizzo su quella postazione principale principalmente per una questione estetica questo è grigio siderale quello è argento e quindi preferisco avere almeno argento argento sopra e pippe mentale mie posso? grazie detto questo ve lo consiglio costicchia però è un prodotto che ha il suo cioè sa dire la sua per finire una riccola tracolla di Chubador ragazzi io vado matto per questi gadget mi è arrivato adesso pure lo zaino io sto amando questo brand questa qui è quella chicchettina da tutti i giorni per un everyday carry super minimal super figure super American style perché alla fine ho visto che molti in America usano queste tracolline piccoline da lì che mi è poi presa la scimmia e mi è presa la cosa e devo dire che è fantastico come tutti gli altri prodotti di Chubador so che alcuni già stanno facendo acquisti sul sul sito e magari Chubador se vogliamo continuare a collaborare mandate pure qualche altra cosa perché ormai sono di famiglia yes ma comunque detto questo mi piace molto perché è piccolo realizzato bene bello esteticamente belli materiali ottima la cerniera pur impermeabile vi permette di mettere tutto quello di cui avete bisogno nel quotidiano così bello comodo all'interno di una sacchettina apposita e non mettere tutto in tasca e avere il fastidio mentre camminate quindi uno spettacolo mi piace un sacco perché la metto nelle figate tech perché per me è una figata tech è una cosa che vi permette di mettere i vostri gadget e andare belli comodi in giro passatemi un po' la cosa nel caso però secondo me ha senso ed è finissima l'utilizzo per andare per esempio a Napoli all'università eccetera eccetera mettere i tre piedi nel momento in cui devo registrare un vlog e vado che un amore ve la consiglio fantastico prodotto detto questo prossimamente parleremo di altri gadget di altre cose quindi iscrivete al canale attivate la campanella perché è fondamentale e mi raccomando nei commenti fammi sapere cosa ne pensate perché è importante detto questo noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul canale ciao ragazzi